Socrate, Critone Come mai sei venuto qui a quest'ora, Critone? Non è ancora presto? È presto, sì. Che ora è di preciso? Manca poco all'alba. Mi meraviglio che la guardia della prigione abbia consentito ad aprirti. Ormai mi conosce bene, Socrate. Vengo qui spesso e gli ho pure fatto qualche favore. Sei qui da poco o da tanto? Da un bel po'. E allora perché non mi hai svegliato subito e te ne stai seduto lì in silenzio? No, davvero, Socrate. Neanch'io vorrei svegliare insonna in tanta sventura. Peraltro sono rimasto meravigliato a vedere come dormivi tranquillamente e lungamente. Non ti svegliavo apposta per farti continuare così, nella massima tranquillità. Se già in più di un'occasione, nel corso della vita, ho avuto a giudicarti felice per il tuo comportamento, a maggior ragione lo farò in una circostanza come questa, che riesci a vivere con tanta serenità e calma. Sarebbe ben fuori luogo, Critone, se alla mia età mi rammaricassi di dover morire. Anche ad altri, Socrate, capita di trovarsi in situazioni simili alla stessa età, eppure ciò non li solleva dal rammarico per la propria sorte. È vero. Ma, insomma, come sei giunto così presto? Per portarti, Socrate, una brutta notizia. Non per te, mi pare, ma per tutti i tuoi amici. Brutta e grave. E che io, più di tutti, credo, troverò difficile da sopportare. Di che si tratta? È forse arrivata la nave d'Adelo a cui arrivo devo morire? Arrivata non è, ma credo che arriverà oggi, a giudicare da quel che riferiscono alcuni che provengono dal sunio, e l'hanno lasciata là. Ne risulta, è chiaro, che arriverà oggi, e dunque sarà domani, Socrate, il giorno in cui sei destinato a morire. Ebbene, Gritone, che tutto vada per il meglio, se così piace agli dèi, così sia. Tuttavia non credo che l'arrivo sarà oggi. Da che cosa lo deduci? Ora te lo dico. Devo morire il giorno successivo all'arrivo della nave, no? Così almeno dicono quelli che decidono di queste cose. Perciò non penso che arriverà questo giorno che viene, bensì domani. Lo deduco da un sogno che ho fatto questa notte, poco fa. Direi che hai fatto bene a non svegliarmi. Che sogno era? Mi veniva incontro, pareva una donna bella e nobile di aspetto, vestita di bianco, che mi apostrofava con queste parole. Oh, Socrate, il terzo giorno giungerai a Flia, ricca di zolle. Strano sogno, Socrate. Ma chiaro, mi sembra, Gritone. Anche troppo, direi. Ma stammi lo stesso a sentire, mirabile Socrate. Salvati. Vedi, se muori non mi colpirà una disgrazia sola, oltre alla perdita di un amico. E tale che mai più ne troverò uno simile, la gente che non conosce abbastanza né me né te, crederà che avevo la possibilità di salvarti, purché fossi disposto a metterci del denaro. E me ne sono infischiato. E ci si potrebbe creare fama peggiore che quella di dare più valore al denaro che agli amici. Perché certo la gente non potrà credere che noi ti spingessimo, mentre sei stato tu, a non volertene andare da qui. Ma caro Gritone, perché preoccuparci dell'opinione della gente? Tanto più che i migliori, dei quali più vale la pena di darsi pensiero, capiranno che le cose sono andate precisamente come sono andate. Ma tu vedi, Socrate, che dell'opinione della gente è pur necessario curarsi. Proprio la situazione in cui siamo dimostra che la gente è in grado di fare non poco male, per non dire il peggio a chi vede calunniato. Magari, Gritone, la gente fosse capace di fare i mali peggiori. Sarebbe allora capace anche del più gran bene. E sarebbe bello. Ma non sono capaci né dell'una né dell'altra cosa. Non sanno far diventare un uomo né saggio né stolto. E si muovono invece come capita. D'accordo, però devi dirmi, Socrate, un'altra cosa. Ti preoccupi forse per me? E per gli altri amici che, se te ne vai, i sicofanti ci diano delle noie, accusandoci di averti rapito. E ci troviamo obbligati a sborsare tutto il nostro denaro, o buona parte di esso, se non a subire altri danni. Sai di questo che hai paura. Lascia perdere. È giusto che per la tua salvezza affrontiamo un rischio del genere. E se occorre, anche più serio. Pensa invece solo a prestarmi ascolto. Mi preoccupa questo, Gritone. E parecchio altro. Ebbene, abbandona questi timori. Non è che chiedono tanto per salvarti, portandoti via di qui. E poi non vedi come sono a buon mercato questi sicofanti. Neanche per loro ci vorrà molto. Le mie sostanze, che presumo sufficienti, sono a tua disposizione. E se per qualche scrupolo nei miei confronti tu ritenessi di non dover spendere del mio, ci sono pronti a spendere questi amici di fuori. Uno di essi, Simmia di Tebe, ha portato da solo abbastanza denaro proprio per questo. Ma ci sono pronti a fare altrettanto anche Cebete e parecchi altri. Sicché, te lo ripeto, non rinunciare a salvarti per timori di questo tipo. In secondo luogo non deve farti difficoltà il fatto, lo dicevi in tribunale, che non sapresti cosa fare di te una volta lontano da Atene. È certo che in molti altri luoghi, dovunque capiterai, ti faranno festa. E se per caso decidi di andare in Tessaglia, lì ho amici che ti circonderanno della loro stima e protezione, in modo che nessuno in Tessaglia potrà nuocerti. Inoltre, Socrate, non mi sembra neanche giusta questa tua scelta di arrenderti quando hai la possibilità di salvarti. Anzi, ti dai da fare per ottenere il risultato che ti vorrebbero procurare. Anzi, ti hanno già procurato i tuoi nemici che ti vogliono rovinare. Oltretutto mi pare che tu tradischi anche i tuoi figli, che avresti la possibilità di crescere ed educare, mentre andandotene li abbandonerai, indifferente a quanto possa capitare loro. E li capiterà, è prevedibile, quel che è la norma per gli orfani lasciati soli. I figli, o non bisogna farli, o bisogna faticarsi a tirarli su ed educarli. Ma tu, mi sembra, che stai scegliendo la strada più comoda. Invece, essendo uno che sostiene di voler coltivare la virtù per tutta la vita, dovresti fare la scelta che farebbe un uomo nobile e coraggioso. Come mi vergogno per te e per i tuoi amici, se penso al pericolo di far la figura di aver gestito tutta questa faccenda con un tantino di vigliaccheria. A partire dal fatto che la causa è stata portata in tribunale quando era possibile che non lo fosse, e poi il modo in cui si è svolto il dibattimento e infine, al colmo del ridicolo, questo farci fare la figura di esserci defilati per meschineria o per viltà, senza salvarti e senza che lo facessi tu, come sarebbe stato possibile anche solo con un piccolo aiuto da parte nostra. Vada dunque, Socrate, che questa situazione non sia anche disonorevole, oltre che disgraziata, sia per te che per noi. Deciditi una buona volta. A quest'ora, a dire il vero, dovremmo non decidere, ma aver già deciso, e la decisione sia una sola. Tutto deve essere fatto entro la prossima notte. Se indugeremo ancora, ogni possibilità verrà meno. Insomma, Socrate, devi assolutamente e unicamente prestarmi ascolto. Unito a una corretta visione delle cose, Critone, il tuo zello sarebbe anche apprezzabile, ma in caso contrario, quanto più è vivace, e tanto più ci fa fastidioso. È perciò opportuno esaminare se dobbiamo o no imbarcarci in questa impresa. Del resto, non è questa la prima volta. Io ho fatto sempre in modo di seguire solo quel ragionamento che, fra i vari che rimugino dentro di me, dopo ponderata riflessione, risultasse il migliore. E i ragionamenti che sostenevo prima. Non posso buttarli adesso a mare solo perché mi è toccata questa sorte. Al contrario, mi appaiono più o meno sotto la stessa luce, e continuo a tenerli nel massimo conto, esattamente come prima. Se non riusciremo ora a trovarne il meglio, sappilo, non ti darò retta neanche se il potere della gente viene ad agitarci davanti, come a dei bambini, spauracchi anche peggiori di questi, scagliandoci addosso ceppi, con donne a morte o con fische di beni. Come fare a valutare la situazione nel modo più equilibrato? Direi di prendere, per cominciare, il tuo argomento dell'opinione della gente. Avevamo o no ragione ad affermare ripetutamente che di alcune opinioni bisogna tener conto, di altre no. Forse che l'affermazione era ragionevole prima della mia condanna a morte, mentre ora risulta evidente che si diceva così tanto per dire, ed era in realtà tutto un gioco, uno stare a chiacchiera. Voglio proprio vedere insieme a te, Critone, se quell'argomento mi apparirà sotto una luce uguale o diversa, ora che mi trovo così, e se lo manderemo a farsi benedire, o vi aderiremo. Secondo me si è sempre inteso, da parte di quelli che ritengono di aver qualcosa da dire, più o meno, quel che ho sostenuto io poco fa. Delle opinioni umane, alcune vanno tenute in considerazione, altre no. Per gli dèi, Critone, non ti par corretto questo? Per quanto è umanamente verosimile, tu non corri il rischio di morire domani, e la presente congiura non dovrebbe obbonubilare il tuo giudizio. Ti soddisfa questa affermazione, che non tutte le opinioni umane sono apprezzabili, ma alcune sì e altre no, e non quelle di tutti, ma di alcuni sì e di altri no. Che mi dici? Non è corretto? Lo è. Si tratta dunque di apprezzare le opinioni buone, ma non quelle cattive. Sì. E buone non sono forse quelle degli uomini saggi, cattive quelli degli stolti? E come no? Ora, dimmi, come la mettevamo su quest'altro punto? Uno che si dedica specificatamente alla ginnastica, fa attenzione all'elogio, al biasimo, e all'opinione di chiunque o solamente di un medico o di un istruttore. Solamente di costui. Dunque è il caso di temere i rimproveri o gradire gli elogi solo di quello, non della gente in genere. Chiaro. Dovrà allora comportarsi e far ginnastica, e mangiare e bere, seguendo le direttive di quell'unico che è esperto e ci capisce piuttosto che di tutti gli altri. Proprio così. Bene. E se d'altro canto a quell'unico vorrà disubbidire, disprezzandone opinioni ed elogi e privilegiando quelli della gente che pur non ne capisce niente, non ne risentirà alcun danno? E come no? E che tipo di danno? Dove tende? A quale parte della persona del disubbidiente? Ma è chiaro, al corpo. È questo che rovina. Giusto. E senza addentrarci in ogni minuzia. Non è lo stesso anche per il resto, Critone? Riguardo cioè al giusto e all'ingiusto, al brutto e al bello, al buono e al cattivo, su cui ora dobbiamo decidere. Dobbiamo seguire e temere l'opinione della gente o di quell'unico se c'è che se ne intende, che bisogna rivelire e temere più che tutti quanti gli altri. E se non daremo retta a lui, finiremo per corrompere e guastare quella parte di noi che per opera di ciò che è giusto diventa migliore e con l'ingiusto si deteriora. È una sciocchezza questa? Ti do ragione, Socrate. Proseguiamo. Se, tralasciando di seguire il parere di chi se ne intende, roviniamo quella parte di noi che con ciò che è salutare migliora e con ciò che è malsano si corrompe, una volta che sia corrotta, ci resta possibile vivere. E si tratta del corpo, no? Sì. Ora, c'è mai possibile vivere con un corpo malandato e corrotto? Assolutamente no. E ci sarebbe invece possibile vivere se fosse corrotta quella parte di noi che viene guastata dall'ingiusto mentre dal giusto riceve giovamento? O giudichiamo inferiore al corpo quella parte di noi qualunque essa sia che è di pertinenza della giustizia e dell'ingiustizia? Niente affatto. La giudichiamo allora superiore e di molto. Allora, carissimo, dovremmo curarci di cose dirà di noi non la gente ma colui che di giusto e ingiusto se ne intende. Lui solo e la verità stessa. Quindi non è corretto in primo luogo questa tua proposta di curarci dell'opinione della gente sul giusto, il bello, il buono e i loro contrari. Ma intanto si potrebbe dire la gente è in grado di darci la morte. Chiaro anche questo. si potrebbe effettivamente dire, Socrate, è vero. Ma, mio meraviglioso amico, il ragionamento che abbiamo fatto sin qui mi pare assomigliare ancora al precedente. Rifletti adesso se resta vero o meno che estremamente importante è non tanto vivere quanto vivere bene. Certo che resta vero. E resta vero o no che vivere bene e con onestà e giustizia è la stessa cosa? Resta vero. Sulla base di quanto abbiamo ammesso esaminiamo ora se sia giusto o ingiusto e io cerchi di evadere senza il consenso degli Atenesi e se ci sembra giusto proviamoci altrimenti lasciamo perdere. Quanto alle tue considerazioni su spesa, reputazione, crescita dei figli c'è il serio pericolo, Critone, che siano speculazioni da gente che, come facilmente uccide, altrettanto facilmente riporterebbe anche in vita se solo ne fosse capace. gente cioè, come i più, senza giudizio. Ma noi atteniamoci al nostro ragionamento e chiediamoci solo se, come abbiamo appena detto, spendendo denaro e riconoscenza con questi che mi porteranno fuori di qui, faremo cosa giusta, fra te che vuoi tirarmi fuori e me che acconsento, o se in realtà con tutto ciò commetteremo un'ingiustizia. E se ci apparirà chiaro che di un'azione ingiusta si tratta, cerchiamo di non preoccuparci di dover morire o di subire qualsiasi altra pena e restiamo con tranquillità al nostro posto, dandoci pensiero piuttosto di non commettere un'ingiustizia. Trovo che hai ragione, Socrate, pensa ora al da farsi. Riflettiamoci insieme, carissimo, se hai qualche argomento da opporre ai miei, fai pure e ti ascolterò. Altrimenti, benedetto uomo, smetti di ripetere sempre la stessa solfa che bisogna che me ne vada di qui anche contro il volere degli ateniesi. Certo, ci tengo a muovermi in questa faccenda dopo averti convinto, non contro la tua approvazione. Vedi ora se ti pare soddisfacente il punto di partenza e cerca poi di dare alle domande le risposte più meditate. Ebbene, si proverò. Diciamo che non bisogna commettere volontariamente giustizia in nessun caso o per certi versi sì e per certi altri no. O diciamo, e su questo punto ci siamo già trovati d'accordo più di una volta, che commettere ingiustizia non è affatto cosa buona né bella, che tutte le conclusioni una volta raggiunte si siano in questi giorni rimescolate e tanto abbiamo indugiato nelle nostre appassionate discussioni critone da non renderci conto che nulla ci distingueva alla nostra età da dei bambini. O piuttosto le cose stanno come si diceva allora. Sia che la gente lo ammetta o no, sia che siamo costretti a sopportare sofferenze peggiori o più lievi di queste e in ogni caso commettere ingiustizia è, per chi lo fa, cosa brutta e turpe. Sì o no? Sì. Dunque, in nessun caso va commessa ingiustizia? Assolutamente no. E dal momento che in nessun caso va commessa ingiustizia, neanche chi la subisca dovrà ricambiarla, come pensa la gente. Sembra proprio di no. E ora, Critone, dimmi se il male bisogna farlo o no. Certo che no, Socrate. E ora dimmi se è giusto o no che uno contraccambi un male subito, come la gente pensa. In nessun caso. In effetti, far del male a qualcuno è lo stesso che commette l'ingiustizia. Hai ragione. Dunque, non dobbiamo ricambiare le ingiustizie, né fare del male a nessuno, qualsiasi cosa gli altri facciano di noi. E vada, Critone, di non concordare con me su questo punto se non sai veramente di questo parere. A condividere queste opinioni, lo so bene, sono e sempre saranno in pochi. E fra chi la pensa così e chi no, non è possibile comunità di intenti. È anzi inevitabile che quando ci confrontano le rispettive scelte provino a disprezzo l'uno per l'altro. Perciò, rifletti bene anche tu se condividi la mia opinione, se davvero sei d'accordo e le nostre considerazioni muovono allora dal principio che non è mai corretto commettere ingiustizia e neppure ricambiarla, né reagire ai maltrattamenti facendo del male a propria volta. O se ti distacchi e questo principio non lo condividi. Io la penso così da tempo e continuo tuttora, ma se tu la pensi diversamente, dillo e istruiscimi. Se invece resti fedele alle nostre promesse, ascolta il seguito. Resto fedele, sì, sono d'accordo. Parla, su via. Ecco quel che ho da dire. O meglio, una domanda. Se si concorda con qualcuno sulla giustezza di qualcosa, la si dovrà fare o evitare? La si dovrà fare. E stai bene attento allora a quel che ne consegue, allontanandoci da qui senza previo consenso della città. Facciamo del male a qualcuno e proprio a chi meno dovremmo? Oppure no? E rimaniamo fedeli ai principi che avevamo riconosciuto giusti? Oppure no? Alla tua domanda, Socrate, non so rispondere. Non capisco. Prova allora a metterla così. Poniamo che mentre siamo lì per fuggire di qui, o comunque vogliamo chiamare questa cosa, venissero le lezze e la città tutta si piazzasse davanti a noi e ci chiedessero dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Quale può essere il tuo intento con questo gesto se non di fare quanto ti è possibile per distruggere noi, le leggi e la città intera? O pensi che possa sopravvivere e non essere sovvertita una città in cui le sentenze pronunciate non hanno efficacia e possano essere invalidate e annullate da privati cittadini? Cosa rispondere, Ocritone, a queste o simili domande? Certo, ci sarebbe molto da dire, più di tutti ci riuscirebbe un retore in difesa della legge che violerei che impone che le sentenze pronunciate abbiano vigore. Preferiremo forse dare loro una risposta del tipo la città ci ha fatto un'ingiustizia emettendo una sentenza scorretta. Diremo questo o che altro? Ma questo, Socrate, Perseus. Ma supponiamo che le leggi dicessero ma Socrate è questo che rientrava nei nostri accordi o non piuttosto l'impegno di rispettare i giudizi della città. Se a queste parole facessimo mostra di meravigliarci potrebbero aggiungere invece di meravigliarti di quello che diciamo Socrate rispondi sei ben abituato a fare uso di domanda e risposta. Su hai qualcosa da rimproverarci a noi e alla città che ti dai da fare per la nostra rovina? Non ti abbiamo dato noi la vita tanto per cominciare e non è grazie a noi che tuo padre ha preso in moglie e tua madre e ti ha generato? Di un po' a quelle leggi fra noi che governano i matrimoni hai da fare qualche rimprovero? Nessuno dirai io ce l'hai allora con quelle che regolano la crescita e l'educazione dei figli in cui sei stato cresciuto anche tu non erano giuste le direttive che la legislazione in materia dava a tuo padre prescrivendogli di educarti nella musica e nella ginnastica? Ma sì dirai ancora e allora dopo essere stato generato allevato ed educato avresti il coraggio di negare tanto per cominciare di essere creatura e schiavo nostro come pure i tuoi antenati? Sai così poi credi che tu e noi abbiamo uguali diritti e che se noi ti facciamo qualcosa hai il diritto di fare altrettanto? Non eri su un piano di parità rispetto a tuo padre o a un padrone se ne avevi uno sì da poter ricambiare qualsiasi trattamento rispondendo alle offese con le offese alle percosse con le percosse e così via e te lo permetteresti ora rispetto alla patria e alle lezzi al punto che se riteniamo giusto cercare di ucciderti ti metterai a fare altrettanto con noi per quanto ti riesce e sosterrai di agire con ciò giustamente e saresti uno che genuinamente si cura della virtù o con tutta la tua sapienza non ti rendi conto che la patria è più preziosa sia della madre che del padre e di tutti gli antenati è più sacra e più venerabile più degna di considerazione da parte degli dèi e degli uomini assennati e che le si deve obbedire e servirla anche nelle sue ire più che un padre e che l'alternativa è fra persuaderla o eseguire i suoi ordini soffrendo in silenzio se ci si impone di soffrire si tratti di essere battuti o imprigionati o anche di essere feriti o uccisi se ci manda in guerra e bisogna farlo ed è giusto così senza rendersi né ritirarsi né lasciare la propria posizione perché sia in guerra che in tribunale dappertutto va fatto ciò che la città la patria comanda a meno di non riuscire a persuaderla di dove sta la giustizia se è un'empietà usare violenza contro il padre e la madre tanto più lo sarà contro la patria cosa potremmo replicare a questo discorso critone che le leggi dicono la verità o no mi pare di sì ora socrate potrebbero soggiungere le leggi giudica se è davvero ingiusto come andiamo affermando il trattamento che ci riservi in questo momento noi infatti ti abbiamo messo al mondo e allevato ed educato e abbiamo distribuito fra te e i tuoi cittadini tutti i beni di cui disponevamo e pur tuttavia dichiariamo subito col darne il permesso a ogni eteniase che lo desideri che se raggiunta la condizione di cittadino e osservando come vanno le cose nella città e noi le leggi non ci trova di suo gradimento può benissimo prendere le sue cose e andarsene dove preferisce e nessuna di noi leggi pone ostacoli o vieta di andare con le proprie cose dove gli pare a chi di voi non gradisce noi e la città e desideri trasferirsi in una nostra colonia o in altra località a suo piacimento se uno di voi rimane vedendo come amministriamo la giustizia e tutta la cosa pubblica possiamo dire che di fatto ha consentito a eseguire i nostri ordini e se costui disubbidisce diciamo che commette ingiustizia in tre sensi in quanto non obbedisce a noi che lo abbiamo messo al mondo e poi a noi che lo abbiamo allevato e in quanto non lo fa dopo aver e in quanto non lo fa dopo aver accettato di obbedirsi né d'altronde cerca di persuaderci che stiamo commettendo un errore lungi dall'imporre con asprezza di fare ciò che ordiniamo noi non facciamo che proporre lasciando possibilità di scelta fra persuaderci ed eseguire eppure costui non fa l'una cosa né l'altra ora noi sosteniamo Socrate che a si fatte accuse ti presterai anche tu se farai quello che hai in mente e non meno degli Atenesi ma più di tutti e se chiedessi perché mai forse a ragione mi assalirebbero rimarcando che proprio io più di tutti gli Atenesi sono stretto a loro da questo patto ecco quel che direbbero abbiamo buone prove che ti piacevamo Socrate noi e la città in questa città non avresti soggiornato enormemente più a lungo degli altri Atenesi se non ti fosse enormemente piaciuta non sei mai uscito per una celebrazione sacra tranne una volta per andare all'istmo né sei mai andato altrove se non per spedizioni militari né hai mai viaggiato come amano fare gli altri né ti è mai venuta voglia di vedere un'altra città e conoscere altre leggi ti bastavamo invece noi e la nostra città tanto intensamente che prediligevi accettando di vivere sotto il nostro governo in questa città fra l'altro dando l'impressione che ti piacesse hai fatto ai tuoi figli inoltre durante il processo avresti ancora avuto la possibilità di chiedere la pena dell'esilio se lo avessi voluto di fare cioè allora col consenso della città ciò che cerchi di fare adesso senza e ti vantavi allora di non rammaricarti al pensiero di dover morire dichiarando anzi di preferire all'esilio la morte e ora non ti vergogni al ricordo di quei discorsi e senza alcun riguardo per noi leggi cerchi di distruggerci e ti comporti come il più vile schiavo tentando di fuggire contro i patti e gli accordi in base ai quali avevi convenuto con noi di regolare la tua vita di cittadino anzitutto dunque rispondici su questo punto diciamo o no il vero quando affermiamo che avevi accettato e non a parole ma di fatto di vivere sotto il nostro governo come reagire a questo discorso critone possiamo far altro che dichiararci d'accordo dobbiamo Socrate e soggiungerebbero così tu non fai che violare i patti gli accordi fatti con noi non vi avevi consentito perché costretto o ingannato e un bel po' di tempo hai avuto per pensarci su in settant'anni avresti bene avuto modo di partirtene se noi non ti andavamo bene o se non trovavi giusti i nostri accordi tu invece non optavi per Sparta o Creta di cui stai sempre a lodare il buon governo né per nessun'altra città greca o Barbara di cui anzi sei partito più raramente di quanto non facciano storpi ciechi o altri invalidi a tal punto dunque ti andava bene enormemente più che agli altri ateniesi la nostra città ed evidentemente a chi andrebbe bene una città senza leggi anche noi leggi e adesso non vuoi stare ai patti ma sì se ti ascolti Socrate così non ti renderai ridicolo abbandonando la città pensa poi che piacere faresti a te stesso oltre che ai tuoi amici cadendo in un errore come quello di trasgredire i patti che i tuoi amici correranno anche loro il pericolo di andare in esilio ed essere privati dei diritti civili o perdere i propri beni è abbastanza chiaro quanto a te se ti recherai in qualcuna delle città più vicine come Tebe o Megara entrambe vantano una buona legislazione vi giungerai Socrate come un nemico del loro ordinamento civico tutti quelli che si preoccupano della loro città ti guarderanno con sospetto considerandoti un guastatore di leggi e rispetto ai giudici contribuirai a consolidare l'opinione che abbiano emesso una sentenza giusta in quanto uno che corrompe le leggi può apparire a maggior ragione come un corruttore di giovani o di uomini stolti e allora cosa farai? Eviterai le città rette da buone leggi e gli uomini più onesti? Oppure li avvicinerai senza pudore per parlare con loro? Ma di che cosa Socrate? Argomenterai come facevi qui che le cose più preziose per l'uomo sono le virtù e la giustizia e le leggi e tutto ciò che vi si connette? Non credi che il fare di Socrate apparirà sconveniente? È inevitabile e se tenendoti alla larga da questi luoghi te ne andassi in tessaglia dagli amici di Critone certo che lì regnano il più gran disordine e l'assismo e non è escluso che starebbero ad ascoltare volentieri come se è ridicolmente evaso del carcere mettendoti addosso qualche travestimento una pelle d'animale o altre cose che usano per travestirsi i fuggiaschi per rendere la tua fama irriconoscibile non vi sarà nessuno a rilevare che vecchio come sei velocemente con poco tempo ancora da vivere hai spinto il tuo tenace attaccamento alla vita al punto di trasgredire le leggi più importanti forse no se non infastidirai nessuno altrimenti Socrate ne avrai da sentire di commenti sul tuo conto e ben umilianti potresti vivere ingraziandoti questo o quello servilmente e occupandoti di cosa in tessaglia se non di spassartela quasi ci fossi andato per banchettare e quelle nostre conversazioni sulla giustizia e le altre virtù dove saranno andate a finire ma già vuoi vivere per i tuoi figli per allevarli ed educarli davvero li alleverai e li educherai portandoti in tessaglia facendone degli stranieri per sovrappiù o in alternativa li farai allevare qui e con te vivo saranno allevati ed educati meglio anche se non sei vicino a loro certo se ne prenderanno cura i tuoi amici ma lo faranno se partirai per la tessaglia e non invece se partirai per l'ade se quelli che si professano a tuoi amici vogliono essere di qualche aiuto lo faranno comunque ma da ascolto Socrate a noi che ti abbiamo allevato non dare ai figli alla vita a null'altro più valore che a ciò che è giusto affinché al tuo arrivo nell'ade tu possa richiamare tutto ciò in tua difesa presso coloro che lì comandano il comportamento che non sembra qui a te né ad alcuno dei tuoi amici preferibile né più giusto né più pio certo non ti apparirà preferibile quando tu sia giunto lì è vero che andandovi se lo puoi lo fai patisci un'ingiustizia ma non da parte di noi leggi bensì degli uomini se invece evadi così ignominiosamente ricambiando offesa con offesa e male con male trasgredendo i patti e gli accordi stretti con noi e facendo del male a chi meno dovresti a te stesso agli amici alla patria a noi non solo ti attirerai finché vivi la nostra ostilità ma anche le nostre sorelle laggiù le leggi dell'ade non ti accoglieranno con benevolenza sapendo che hai cercato per quanto sta in te di distruggersi insomma non lasciarti persuadere dai consigli di critone più che dai nostri questo è ciò che mi sembra di sentire sappilo mio buon amico critone come ai celebranti diritti corribantici sembra di udire i flauti e risuonando dentro di me l'eco di queste parole mi impedisce di udire altro per quanto mi pare ora ti assicuro ogni tua obiezione ad esse sarebbe vana se speri di ottenere qualcosa di più comunque parla pure sono senza parole Socrate allora lasciamo perdere critone e scegliamo questa via visto che ce l'ha dita la divinità di scegliamo la città di scegliamo questa via Grazie a tutti.